A dispetto delle preoccupazioni e della stanchezza generate da un anno di pandemia, in Abruzzo solo il 45,05% degli oltreottantenni aventi diritto ha aderito alla campagna vaccinale anti-covid, manifestando il proprio interesse con l'iscrizione al portale della regione. In provincia di Pescara, dove la campagna vaccinale per gli over 80 partirà oggi da Torre dei Passeri, gli iscritti alla piattaforma sono all'incirca 12.000 a fronte dei 26.000 assistiti censiti dalla ASL. A manifestare il proprio interesse alla vaccinazione, nello specifico sono stati 5.591 oltreottantenni a Pescara, 1.383 a Montesilvano e 484 a Spoltore, solo per citare i comuni con il più alto numero di adesioni, fino a Corvara con soli 5 iscritti alla piattaforma. Di poco più alta la percentuale delle adesioni in provincia di Chieti, dove l'azienda sanitaria Tiatina ha annunciato che le vaccinazioni inizieranno mercoledì dai centri più grandi di Chieti, Lanciano e Vasto. In provincia le manifestazioni di interesse raccolte sono oltre 14.000 a fronte dei quasi 32.000 assistiti censiti dall'azienda sanitaria. Il consenso alla vaccinazione è stato rilasciato da 2.012 assistiti a Chieti, 1.292 a Vasto, 1.227 a Lanciano e 798 a Francavilla al Mare. A chiudere la lista, Pietra Ferrazzana, con tre ultraottantenni iscritti al portale della regione. La campagna di vaccinazioni anti-covid, insomma, avviata simbolicamente in tutta Europa lo scorso 27 dicembre con gli operatori sanitari, procede per gradi, scontando però i ritardi dovuti alla distribuzione dei vaccini su scala mondiale, che fanno slittare il raggiungimento dell'obiettivo della tanto agognata immunità di gregge. Rossano Di Luzio, direttore della unità operativa complessa di organizzazione e cure territoriali dell'Asla di Pescara. Perché tutto questo tempo? Una tempistica molto lunga, ecco perché. Noi ci siamo presi l'impegno di utilizzare appieno tutti i vaccini che arrivano settimanalmente nella provincia dell'Asla di Pescara e quindi il tempo è dovuto all'arrivo dei vaccini e sono i vaccini che danno la progressione della vaccinazione per gli ultraottantenni. La nostra attività è quella di cercare di utilizzare appieno i vaccini al momento in cui arrivano, in pochi giorni, di utilizzarli tutti. Avete detto che sono 16.000 circa le dosi di vaccino che arriveranno, parliamo del vaccino Pfizer. Qualcuno rimarrà fuori? No, non rimarrà fuori nessuno. Prevediamo anche degli arrivi nel mese di marzo, nella prima settimana di marzo e ci siamo posti come obiettivo quello di concludere questa fase sugli ultraottantenni in tre settimane, quindi nelle ultime due settimane di febbraio e nella prima settimana di marzo, per poi riniziare sulla seconda settimana di marzo per fare le seconde dosi. Angelo Moraglia, direttore sanitario dell'Asla di Lanciano Vastocchietti. Questi, chiamiamoli ritardi, da chi dipendono? Probabilmente dipende dalla non certezza della fornitura dei vaccini, perché noi abbiamo, così ci danno un planning per quanto riguarda i vaccini che devono arrivare settimanalmente, però alcune volte magari qualche giorno slitta e allora non è possibile avere la certezza che quel giorno effettivamente arriva il vaccino e quindi programmare per quel giorno un numero di dosi vaccinali precise è difficile anche per noi. Noi partiremo in settimana, probabilmente mercoledì, ma debbo anche dirle che noi gli ovvero 80 ne abbiamo già vaccinati nella nostra azienda precisamente ad oggi, a quest'ora, 506 e sono tutte quelle persone che sono nelle residenze territoriali.